Sono Elisa e la mia storia in Herbalife Nutrition inizia quando avevo solo 22 anni. All'epoca non ero soddisfatta della mia vita. 8 ore al giorno in ufficio, l'aperitivo con gli amici, le serate in discoteca e poi lunedì di nuovo tutto da capo, la solita monotonia. Herbalife Nutrition arriva nella mia vita una sera d'estate. Un'amica mi presenta i prodotti, li provo e poi vado a vedere la presentazione dell'opportunità commerciale. Osservo le persone e sembravano tutti felici di fare quello che stavano facendo e quindi a fine serata decido che voglio iniziare. Mi ci sono buttata a capofitto. Ho partecipato a degli incontri di formazione, ovviamente per strutturare la mia attività nel network marketing e avere un'alternativa all'ufficio. Poi quel lavoro si conclude. Ora potevo dedicarmi a tempo pieno ad Herbalife Nutrition. All'inizio va tutto benissimo, avevo gli stimoli che stavo cercando, avevo il supporto di una grande organizzazione. Mi impegno tanto ed i risultati non tardano ad arrivare. Alla fine del primo anno però, per problemi personali, stavo per mollare. Vado ad un incontro con l'idea di salutare tutti e invece proprio lì mi sento di nuovo motivata a rimettermi in gioco e superare le mie difficoltà. La cosa bella qui è che sei indipendente ma puoi sempre contare sul supporto degli altri e il rapporto con le persone è quello che mi appassiona di più. Ed eccomi qui, ho superato i miei problemi e sono pronta più che mai per continuare a crescere.